Musica Buonasera e benvenuti alla nona puntata di Basilicata Sport. Iniziamo parlando del calcio a 5. In G2 girone B non si sono disputate Nemoli 3P e Dinamo Vigiano Maratea a causa del maltempo. Ma vediamo i risultati delle partite giocate. Aurora Tursi, Amici via Roma 7-2, Bangone 2007 Ciriliano 4-4, Dinamo Vigiano Real Maratea non disputata, Lions Castrumbayanelli 2-8, Nemoli 3P Valnoce non disputata, Progetto Tito Menefussal 6-5, Riposa Stat, Classifica. Progetto Tito 31, Real Maratea 30, Aurora Tursi a 27, Castrumbayanelli a 25, Treppival del Noce a 24, Menefussal a 23, Bangone 2007 Ciriliano a 16, Nemoli a 15, Dinamo Vigiano a 12, Lions e Amici di Via Roma a 9 e chiude lo Stat a 6 punti. Nell'altro girone continua la marcia degli Amici del Borgo, primi a 37 punti, che in casa abbattono l'ultima in classifica per ben 15-0. Passiamo ora al calcio. In seconda divisione giornata mare per le Lucane. Infatti sia Melfi che Matera hanno perso tra le mure amiche. Uno sguardo agli altri risultati. Avellino Brindisi 2-1, Campobasso Neapolis rinviata, Catanzaro Latina 0-2, Isola Liria Versa Normanna 1-1, Matera Vigor Lamezia 0-2, Melfi Trapani 1-2, Pomezia Milazzo 0-1, Vibonese Fundi 1-1. La classifica. Latina a 37 punti, Trapani a 32, Pomezia a 30, Neapolis a 29, Aversa Normanna e Milazzo a 27, Avellino a 26, Vigor Lamezia a 24, Matera a 22, Melfi e Fondi 21, Brindisi a 19, Isola Liria a 16, Campobasso a 14, Vibonese a 13, chiude il Catanzaro a 0 punti. In serie D risorge il Frangavilla, che a Grottaglie vince 2-0. Vittoria anche per il Pesticci, che batte 3-0 il Frangavilla-Fondana. Nonostante queste vittorie, però, Frangavilla e Pesticci restano nelle parti meno nobili della classifica. In eccellenza, invece, è da sottolineare l'impresa del Potenza, che schianta fuori casa il Pietragalla, con il risultato di 3-0. Uno sguardo agli altri risultati. Angelo Cristofaro Vigiano 1-1, Atella Vulture Emilionico 1-0, Picerno Valdiano 2-2, Comprenzorio Tanagro Policoro 2-4, Ferrandina Murese 2-3, Moliterno Rionero 3-0, Pietragalla Potenza 0-3, Real Tolve Avigliano 3-2, Riposa Borussia Marconia. La classifica Angelo Cristofaro 1-1 a 40 punti, Comprenzorio Tanagro a 34, Vigiano a 33, Atella a 32, Pietragalla a 27, Real Tolve Valdiano e Murese a 26, Avigliano e Potenza a 24, Borussia e Picerno a 23, Policoro e Moliterno a 21, Ferrandina a 18, Milionico a 14, ultimo il Vulture con 13 punti. In promozione il Soccer Lago Negro fa solo scontro diretto contro il Balvano, 2-1 il finale, ma vediamo la situazione del girone. Sporting Pignola a 1, Sporting Pignola a Bella 2-0. La classifica Atletico Scanzano a 52, Atletico Potenza a 47, Bernalda a 32, Pignola e Cangellara a 30, Il Sina a 25, Pesco Pagano, Sant'Arcangiolese e Tursi a 22, Balvano a 20, Rotondella a 19, Sporting Lago Negri e Grottole a 18, Montescaglioso a 15, Varisus Matera a 14, Bella ultima a 12 punti. In prima categoria sconvitta esterna per il Lauria, che cade sul campo del tricarico per 1-0. Il Latronico invece vince facile a Chiaromonte, 3-0 il finale. Con queste vittorie il Latronico continua la ringorsa al primo posto, ora a lontano solo un punto, mentre il Lauria resta a centro classifica a quota 24 punti. In seconda categoria pareggio casalingo senza reti per il Nemus, contro l'Epescopia. Ha seguito per noi la partita Emilio Palladino. Tempo freddo e umido al campo di Nemuli, che vede impegnati i padroni di casa in uno scontro diretto contro l'Epescopia. Solo due sono i punti che separano le due squadre. Un primo tempo privo di emozioni, giocato molto a centro campo. Un dideco poco brillante, anche per i troppi pochi palloni giocati. Nemmeno il rientro del neopapà Carrazzone ha cambiato la situazione. Nel secondo tempo abbiamo visto qualche bella palla giocata in attacco, di entrambe le squadre. Una bellissima azione del Nemuli che mette Dideco a tu per tu con il portiere, ma non riesce ad inquadrare la porta. E così si conclude un'altra partita in parità per il Nemuli. 0-0 il risultato sul tabellino. Ancora molte questioni in gambo. Seguendo la partita e ascoltando i commenti del pubblico, la colpa è rivolta a sistema arbitrale. Magari la Lega si deciderà a mandare uomini con un po' più di esperienza. Ora diamo un'occhiata agli altri risultati. Lunedì si è svolta a Trecchina, Lago Negro e Moliterno. Partita valida per il campionato Ionores. Il servizio è di Domenico Candesani. Al comunale di Trecchina si è svolta la partita tra Soccer Lago Negro e Moliterno, che ha visto i padroni di casa perdere per tre a due. Partita che si sblocca alla mezz'ora con l'errore di Davide Castaldo, che innesca il gol del Moliterno. Gli ospiti allungano e fanno tre gol in un quarto d'ora. Nel secondo tempo i padroni di casa tendono la rimonta e grazie all'ingresso di Manfredelli, che realizza un gol ed ad un'incredibile autorete, cercano di riaprire la partita. Ma il risultato rimane imparato e finisce 3-2 per il Moliterno. Passiamo ora agli altri sport, parlando di basket. Nella Serie A di Lettandi, la Publisis Potenza batte l'Agrigento per 81-75, mentre si ferma la striscia positiva della Bauer Matera, stoppata a patti per 75-66. Nella volley a due femminile, la Master Group Matera batte 3-1 il Busignano e resta così al centro classifica con 18 punti. E con questo è tutto, vi rimando alla prossima puntata, sempre con Basilicata Sport. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.